In materia di reati ambientali, proficuo è stato il rapporto di collaborazione, mediante un protocollo, tra la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto di Corigliano e la Regione Calabria. Con un'apposita conferenza stampa sono stati presentati i primi risultati presso la Capitaneria di Porto di Corigliano. I risultati li abbiamo esposti, sono assolutamente incoraggianti, sono positivi. E' chiaro, è un primo passaggio, perché siamo partiti in emergenza. E' chiaro che muoversi durante il periodo estivo sapevamo bene che già c'era il problema. E allora si è fatta, come si dice, una terapia di attacco, laddove c'erano le situazioni particolarmente critiche che erano proprio immediata fonte di inquinamento, diciamo così, o di danneggiamento. Speriamo di continuare, siamo a febbraio, insomma speriamo da qui a quest'estate di riuscire ad avere un monitoraggio almeno di gran parte dei comuni. In questa prima fase ne abbiamo controllati, ne abbiamo monitorati, abbiamo efficientato con questo sistema, diciamo quasi il 50%. Importanti risultati raggiunti nella piana di Sibari. In coordinamento con gli uomini della Guardia Costiera abbiamo cooperato e lavorato con un approccio multidisciplinare. Parliamo di numerosi depuratori, abbiamo controllato 23 depuratori, 8 di questi sono stati sottoposti a sequestro. Tensioni amministrative che hanno superato nel totale il milione di euro. e numerose persone sono state denunciate e sono quindi assicurate per pagare da un punto di vista penale le loro colpe e la loro mancata responsabilità nei confronti della gestione di questo importante ambito. In taluni casi sono stati riscontrati i fanchi morti che si riversavano in torrenti tutelati da vincoli paesaggistico-ambiendali. In altri, scarichi provenienti da impianti di depurazione comunale. Quindi nel 2016 abbiamo avuto il doppio delle segnalazioni di inquinamento in mare sotto costa. Cioè stiamo parlando di 90 segnalazioni nel 2016 e 54 nel 2000. Perché sicuramente è significativo, almeno sotto l'aspetto sintomatico, del fatto che abbiamo svolto un lavoro che non è soltanto un lavoro di verifica, soltanto di repressione, ma anche un lavoro di deterrenza, di prevenzione. Abbiamo sottoposto a una maggiore attenzione da parte delle amministrazioni comunali di chi piressa gestiscono la depurazione fognaria. Abbiamo posto al centro il tema del corretto funzionamento di questi depuratori.